A far preoccupare tutti i followers è stato un annuncio appena fatto dalla coreografa Caroline Smith che sta attraversando un periodo molto delicato per via di un lutto accaduto improvvisamente nella sua vita. Buonasera a tutti, non so quante volte che ho cercato da fare questo video ma veramente ho grossi problemi. Allora abbiamo avvisato che Scotti ha dovuto fare un intervento martedì perché ha trovato un tumore al regato. L'intervento è andato bene poi purtroppo è subentrato qualche complicazioni però lui un po' come me lotta. E poi diciamo che abbiamo dovuto prolungare il nostro, diciamo, viaggio a Milano perché queste complicazioni è diventata ancora più complicato. E purtroppo questa mattina, anzi la prima chiamata che ho sentito dal medico che mi ha dato un po' di speranza perché i valori è andato un po' meglio e pensavo che poteva uscire fuori. 20 minuti dopo ho ricevuto la chiamata che diciamo che ho avuto un'arresta cardiaca. Hanno cercato di rianimarlo e purtroppo non ce l'ha fatto. Sì, in pratica non c'è più Scotti. Tanti sono stati commenti pubblicati sotto il post e tante le persone che hanno voluto mostrare un segnale di vicinanza e di supporto. A tutti è noto il bellissimo legame che c'era tra la giudice di Ballando con le stelle e il suo amico Pelosetto, che è sempre stato presente in ogni tappa della sua vita e che ha rappresentato per lei un vero e proprio punto di riferimento per tutte le sue giornate.